La partita di domenica sarà una partita sicuramente dura, il risultato che serve a noi è quello della vittoria, è quello che serve anche a loro di sicuro, con un pareggio penso che si faccia ben poco, quindi sarà una partita giocata col coltello fra i denti da tutte e due le squadre che hanno bisogno di punti, speriamo che ne esca una bella partita e alla fine vinca il migliore. Gli infortunati noi ne abbiamo fuori tre o quattro ma sono infortuni lunghi, abbiamo fuori Patrick, Patrick Giudici, Castelletti, abbiamo fuori Poli, sono però Bergamini, sono assenze Bergamini dall'inizio dell'anno addirittura con tempi di recupero lunghi. Vi fidati nessuno fortunatamente, quindi siamo i soliti dalle ultime 5-6 domeniche, ci siamo tutti, ce la giochiamo. Il morale è abbastanza alto perché negli ultimi due mesi, finale d'andata, inizio di ritorno, indipendentemente dai risultati che sono venuti magari di più, stiamo giocando bene, abbiamo trovato un'identità della squadra, i giovani cominciano ad assorbire, a tenere bene la categoria, quindi ce la sentiamo di giocarcela un po' con tutti. Sappiamo che sono tutte delle battaglie, viviamo la giornata, una partita alla volta per cercare di fare i punti che ci servono per arrivare almeno a giocarci i play-out.